Ciao, io sono Ilaria Gaspari, sono una scrittrice, mi occupo di filosofia e scrivo dei saggi narrativi filosofici. Ciao Ilaria, sono Serena e sono un'insegnante. Vorrei iniziare questa conversazione con te parlando di due temi che oggi qui si incontrano che sono l'educazione e la filosofia. Siccome sei dottoressa in filosofia vorrei che mi raccontassi un pochino come erano le prime scuole di filosofia e che cosa dovremmo recuperare da loro. Allora grazie Serena per questa domanda è un tema a cui tengo molto. Perché? Beh intanto perché le prime scuole erano effettivamente scuole di filosofia, cioè l'idea stessa di scuola nasce nell'ambito dell'insegnamento della filosofia, solo che era un insegnamento un po' diverso da come lo intendiamo noi oggi. Oggi noi pensiamo alla scuola come un luogo in cui soprattutto si studia, mentre nella Grecia antica le scuole, le scuole filosofiche erano dei luoghi in cui delle comunità, diciamo, delle comunità libere di persone dei luoghi in cui le persone vivevano seguendo gli insegnamenti di un maestro, che erano insegnamenti non soltanto diciamo di pensiero, ma anche proprio di vita. C'è un libro molto bello che insomma consiglio a tutti, che è un libro di Pierre Hadot, uno studioso francese, che ha scritto alla fine degli anni 70 questo libro che si chiama Esercizi spirituali e filosofia antica, in cui lui riconduce proprio al tempo di queste prime scuole di filosofia l'idea dell'esercizio spirituale, cioè della filosofia come diciamo un modo di cambiare, orientare la propria postura nel mondo. Postura che significa sia il modo in cui tu stai, anzi a proposito sto un po' più dritta, stai nel mondo, quindi il modo in cui tu pensi, lasci che ti arrivino le cose del mondo e quindi fornisci la tua interpretazione, ma anche il modo in cui vivi, in cui affronti la tua vita, la tua esistenza umana. Questo secondo me è un'idea molto preziosa, molto importante che noi possiamo recuperare dagli antichi e insieme a questa idea io accosterai, sai che le etimologie in greco sono sempre molto interessanti e ci dicono molto anche di quello che è il peso delle parole. Cioè la parola scuola che noi usiamo in italiano, ma anche in tante altre lingue, ci sono dei derivati di questa parola che vengono dal greco. L'origine però è scuolè. Scuolè in greco significa originariamente non tanto la scuola, o meglio il nome della scuola deriva da questo, significa il tempo libero. Questa è una cosa che a noi un po' sfugge perché pensiamo invece alla scuola come un tempo del dovere, come un tempo in cui si fanno i compiti, si studia, si devono fare le cose. Mentre invece l'idea greca di scuola, di scuolè, è molto più legata al tema del gioco, di un tempo in cui diciamo vigono le leggi del desiderio. Tant'è vero che appunto il tempo della scuolè è il tempo in cui l'uomo greco non si dedica a niente di redditizio, non si dedica a guadagnare niente, non si dedica a fare affari. È un po' l'equivalente del latino ozium, che curiosamente fra l'altro si contrappone a negozium, che è il tempo degli affari, il tempo in cui si fanno le cose, però ozium viene prima perché nec è la particella negativa che viene apposta. Quindi c'è questo senso originario del tempo libero nella cultura antica che secondo me sarebbe proprio importante recuperare. Quindi il tempo della scuolè è il tempo in cui si migliora se stessi, ma non perché si insegue un fine preciso, non perché si ha in mente un punto di arrivo, una voce da aggiungere al curriculum o guadagnare qualcosa. È un tempo di libero gioco delle tue facoltà intellettuali in cui tu migliori te stesso. Quindi queste scuole antiche sono luoghi in cui si realizza il tempo della scuolè. Ora, purtroppo va detto che molte di queste scuole erano chiuse alle donne e agli schiavi, ma non tutte, perché ci sono delle eccezioni. Per esempio c'è la scuola pitagorica, che è la più antica e che è una scuola affascinantissima, diciamo per certi versi anche un po' vicino a una setta, quindi non la riprenderei proprio tale e quale. Però c'è anche questa idea dell'iniziazione, è una scuola quasi misterica, diciamo, in un certo senso che Pitagora era quasi un po' un mago, che però insegna ai suoi discepoli la matematica, ma anche un modo di stare al mondo, cosa mangiare, cosa non mangiare. Ecco, prenderei queste cose diciamo con un granello di sale, come si dice, per appunto l'idea di un maestro che ti insegna a pensare, quindi a trovare il tuo posto nel mondo, secondo me è un'idea che possiamo sicuramente riprendere appunto senza magari cadere negli eccessi pitagorici. Un'altra scuola che è aperta alle donne e anche agli schiavi, questo è rivoluzionario allora, la scuola Epicurea, che è forse la mia preferita ed è la scuola che riprenderei oggi. La scuola Epicurea, detta il giardino, in realtà era più un orto che un giardino, perché gli Epicurei si coltivavano le loro verdure, perché comunque loro appunto erano molto controcorrente, molto rivoluzionari e quindi avevano anche un po' questa idea del dover sopravvivere e di un'idea di, come dire, di sopperire ai bisogni essenziali in modo da non trovarsi mai in balia delle della vita, degli aspetti più spietati e più legati alla fortuna e alla sorte. Questo secondo me è anche molto bello, cioè l'idea di essere un po' padroni del proprio destino costruendolo in questo rapporto di comunità con altre persone. La scuola Epicurea è una scuola molto orientata alla libertà, all'esame dei desideri, ci sono tanti temi di cui appunto possiamo parlare anche oggi, dall'amicizia al non essere ricattabili dalle proprie paure, quindi insegnamenti anche molto preziosi al giorno d'oggi, però secondo me dell'idea di scuola quello che possiamo soprattutto recuperare è l'idea di un luogo in cui essere liberi di diventare noi stessi, facendolo in totale libertà, svincolati dall'idea di doverne trarre profitto. E questo secondo me è una cosa che oggi è proprio preziosissima, perché viviamo in una società molto performativa che ci impone di essere, di dare molto, di mostrare, di essere più degli altri, ci rende molto competitivi, laddove l'idea antica della scuola è un'idea comunitaria e disinteressata, di miglioramento disinteressato. Mi sembra interessante però il fatto che invece della filosofia c'è un'idea un po' antiquata, no? Secondo te invece perché è necessario continuare a insegnare filosofia a scuola e che cosa può portarci la filosofia? Guarda, io sono ancora più radicale, oltre a pensare che sia necessario continuare a insegnarla, nel mio mondo ideale si inizierebbe anche molto prima a praticarla, si inizierebbe proprio dalle scuole primarie con i bambini, è un'idea che sta pian piano prendendo piede e ne sono molto felice, insomma spero che sia una cosa che in qualche modo continua, perché sì è vero c'è molta diffidenza se non aperta ostilità nei confronti della filosofia, però non è una cosa nuova, una cosa insomma che dura da un po' questo atteggiamento, dai tempi in cui la filosofia è nata. Ora conoscerai probabilmente una delle più famose storie su uno dei primi filosofi, cioè Talete, che appunto si racconta che lui è stato uno dei primissimi filosofi, è stato anche però uno che era filosofo in che senso? Nel senso che non si accontentava più delle spiegazioni mitiche del cosmo, del funzionamento del cosmo e quindi indagava il cielo, quindi si dedicava anche all'astronomia, si dedicava anche allo studio dei fenomeni meteorologici, infatti questa storia ha due facce, te la racconto. La prima faccia è questa, Talete, quindi grande saggio, cammina di notte guardando le stelle per vedere che tempo farà sostanzialmente per capire come si allineano i pianeti, per capire cosa sta succedendo in cielo, un cielo che non gli appare più sotto le spoglie del mito come era stato fino ad allora, ma che lui inizia a indagare in maniera razionale chiedendosi qual è la ragione, qual è il principio delle cose. Questa è una cosa molto bella che dice Aristotele della nascita della filosofia, che nasce dalla meraviglia e per questo penso che i bambini che sanno meravigliarsi e che naturalmente si pongono delle domande simili a quelle che si pongono i filosofi, sarebbe bello che acquisissero familiarità con la filosofia. Ecco insomma, Talete, mentre guarda il cielo, inciampa in un pozzo e cade in fondo al pozzo. Passa di lì una ragazza, una servetta di traccia e lo deride e lo deride perché dice ma vedi questo qua che sta tanto a fare il sapientone, a pensare alle cose del cielo e non vede quello che ha sotto i piedi, che è un luogo comune molto spesso applicato ai filosofi. L'idea, io stessa insomma, io ho studiato filosofia con tutti quelli che dicevano ma sei pazza, ma cosa fai, non lavorerai mai, non guadagnerei tutto questo, ma non serve a niente, è aria fritta ed è un luogo comune questo che appunto la filosofia sia completamente aliena alle cose della vita, sia distaccata dalle cose della vita, è un luogo comune però sbagliato secondo me. E appunto, è molto diffuso, questa storia di Talete infatti la racconta, cioè viene messa da Platone in bocca a Socrate in un dialogo nel Teteto, quando Socrate era già morto. Socrate è stato condannato a morte dai suoi concittadini, lui filosofo talmente impopolare con le sue domande, col suo tentativo di far ragionare i giovani, di essere accusato di corromperli, di essere accusato di impietà e di essere messo sotto processo e finisce per bersi la cicuda. Ecco questo per dire che questa idea del filosofo impopolare, che è curioso che questa storia così famosa su Talete sia tramandata per bocca di Socrate, quindi un filosofo condannato per essere stato filosofo fino in fondo, è qualcosa di molto significativo rispetto all'aspetto impopolare che c'è nella filosofia. Però c'è un'altra faccia di questa medaglia, cioè c'è un'altra storia che racconta Aristotele che riguarda sempre Talete e che dimostra come il filosofo in realtà vedendo le cose in una prospettiva diversa, in una prospettiva che non è quella che è a disposizione degli altri, perché lui riesce a ribaltarla e a vederci e a leggerci qualcosa che le altre persone non vedono, perché non hanno il metodo, perché non hanno le domande giuste per capire quello che lui arriva a capire, dimostra come il filosofo ci veda più lontano ed è questa storia qua, la storia dei frantoi. Insomma pare che Talete, siccome ha furia di guardare il cielo, si cadeva nei pozzi, però era riuscito a prevedere che un certo anno ci sarebbe stato un raccolto abbondantissimo di olive. Quindi cosa fa quell'anno? Lui, deriso da tutti che dicono cosa fai, affitta tutti i frantoi della regione. Quindi quando si realizza la sua previsione e c'è effettivamente un raccolto di olive molto abbondante, tutti vogliono fare l'olio, ma devono prendere i frantoi in subaffitto da Talete, che guadagna tantissimi soldi. Però questa storia secondo me è importante perché ci mostra come lo sguardo che ti dà la filosofia, cioè la sua filosofia in questo caso è la ricerca delle cause, il fatto che lui avesse scrutato il cielo e avesse prima di altri capito cosa regolava i fenomeni naturali. Ovviamente siamo in un tempo in cui le scienze sono molto meno distinte che nel nostro, però questa idea dello sguardo del filosofo, che riesce a vedere qualcosa che gli altri non riescono a vedere, secondo me è molto importante. Ed è una cosa che oggi dovremmo cercare di recuperare togliendo un po' di polvere dalla parola filosofia, dall'idea della filosofia, cercando di farla vivere. E farla vivere secondo me significa appunto insegnarla e farla e praticarla nelle scuole. Cioè non soltanto insegnarla nella sua storia, che sicuramente è affascinantissima, ma anche proprio come pratica, come sguardo sul mondo. Mi piace molto, come consiglio, come proposta. Stai citando molti filosofi e ti volevo chiedere un po' della tua esperienza di cui parli nel tuo ultimo libro, Lezioni di felicità, dove racconti che hai vissuto per sei settimane diverse scuole di pensiero filosofico. Ci puoi raccontare un pochino come è andata e soprattutto che cosa hai imparato da questa esperienza? Sì, allora grazie di questa domanda perché è un libro che ho scritto con molto piacere, è stato molto divertente, al contrario di quello che si pensa che scrivere cose di filosofia sia per forza angosciante e pesante, però non necessariamente. Quel libro in realtà è nato da un momento di disperazione, nel senso che io ho studiato filosofia prima a Pisa, alla scuola normale, poi ho fatto il dottorato alla Sorbonne, a Parigi e cosa è successo? Che in un bel momento mi sono ritrovata, come credo bene o male succeda a tutti nella vita, a perdermi. Insomma avevo perso un po' di punti di riferimento, non sapevo più quale fosse la mia strada e tutta questa crisi era stata ingenerata dal fatto che era finita una mia lunga storia d'amore che era durata per tutti gli anni della mia formazione universitaria. Finisce questa storia e io mi sento molto smarrita. Penso che succeda a tutti quando dobbiamo traslocare, cambiare casa, cambiare le coordinate della nostra vita. Per questo mi piace tanto parlare di postura, perché a volte noi assumiamo una postura, cioè un modo di stare proprio dentro la nostra vita e ci capita però che ci manchi il terreno sotto i piedi, come se ci togliessero il tappeto, noi ci ribaltiamo e dobbiamo ritrovare un nuovo equilibrio. Ed è stato un po' quello che mi è successo. Avevo perso questa persona, avevo perso una serie di abitudini che, come ci insegna la filosofia, sono un po' la nostra seconda natura, ci creano un po' un guscio anche protettivo rispetto al mondo. Quindi dovevo un po' reinventarmi. Cosa è successo? Come racconto nel libro, esattamente in quel modo lì, io mentre facevo il trasloco da questa casa dove avevo abitato con questo mio ex fidanzato, mi sono resa conto di avere tantissimi libri di filosofia antica. Tantissimi, che avevo comprato negli anni, però in realtà non era mai stata la mia specializzazione. Ho studiato filosofia antica, però non è stato l'argomento delle mie tesi. Le mie tesi erano tutte su Spinoza, un altro filosofo che amo moltissimo, però appunto mi ero specializzata su di lui. Questi libri però li avevo letti, li avevo conservati, mi piacevano molto, li amavo molto. E mentre li mettevo via mi sono resa conto che erano libri speciali, che avevano qualcosa di molto particolare. Ovvero questo, il fatto di essere libri di un'epoca in cui la filosofia era giovane e quindi in cui non esisteva tanto la specializzazione delle varie branche della filosofia. Era più un'unità del sapere, un modo di guardare il mondo in cui l'aspetto pratico e l'aspetto teoretico non avevano quell'oiato che si è sviluppato più avanti. Non c'era questa contraddizione fra prassi e teoresi, era tutto molto più vicino. E c'era un'idea soprattutto della saggezza, che aveva molto a che fare con il comprendere le cose, che era forse quello di cui avevo bisogno io in quel momento. Fra questi libri c'era quel libro che ti ho citato prima, cioè Esercizi spirituali e filosofia antica, di Pierre Hadot. E io mentre li mettevo via ho pensato, certo che sono proprio stupida a sprecare tutta questa saggezza. In questo momento in cui ho bisogno di maestri, ho bisogno di risposte, perché non provo a autoeducarmi facendo finta di iscrivermi a queste scuole di filosofia? E quindi cosa ho fatto? Però quello che ho fatto è stato proprio fare un esperimento su me stessa, perché mi interessava vedere dove sarei arrivata, proprio sottoponendomi a questa prova. E quindi ho vissuto, ho fatto così, una settimana studiavo, una settimana vivevo secondo quella scuola, prendevo degli appunti e poi passavo alla scuola successiva. Poi da tutti quegli appunti è nato il libro. Però le cose che racconto nel libro sono tutte vere, nel senso che vengono proprio dal mio diario, tranne qualche piccola finzione letteraria nell'ultima settimana quella in cui racconto di aver preso un cane, cosa che ho fatto poi in seguito, ma lì mi sono solo immaginata. Però per il resto appunto ho davvero applicato alla mia vita quotidiana questi precetti. Quindi per esempio nella settimana pitagorica ho dovuto applicare dei precetti metaforici, perché la scuola di Pitagora è una scuola appunto, come dicevo prima, molto vicina alla religione in realtà, ha una forma di religione appunto anche molto ritualizzata. E c'è molto questa idea della metempsicosi, della reincarnazione. Quindi in cosa si applica nella nostra vita quotidiana questo? Si applica per esempio nel cercare di non lasciare tracce, che è un tema molto attuale. Perché in realtà noi oggi viviamo in un mondo che la nostra traccia, la nostra impronta umana, sta modificando e sta mettendo anche a rischio. Quindi l'idea di lasciare il meno possibile delle tracce si lega molto al discorso anche ecologico di oggi, cioè al fatto di cercare di sporcare, di inquinare il meno possibile. Ci sono delle regole che sono chiaramente delle metafore, ma che in realtà nella nostra vita quotidiana ci aiutano anche a vedere il modo in cui noi possiamo essere padroni dello spazio che occupiamo. Per esempio una regola che dice di non percorrere mai le strade maestre, quindi di trovare le strade secondarie. È una bella metafora secondo me per l'idea di una ricerca. Un esplorare, no? Esatto, un esplorare secondo, appunto, anche senza aver paura. L'avventura. Esatto, senza conformarci all'idea comune che la strada migliore sia la strada più breve o quella più frequentata. Poi ho vissuto la settimana eleatica, che è stata la seconda, è stata impegnativissima perché mi ha costretto a riflettere sul rapporto con il tempo, che è una cosa secondo me su cui non ci fermiamo mai a riflettere, ma che condiziona tutte le nostre vite. E anche lì mi sono fermata molto a riflettere sul fatto che noi siamo abituati a misurare la nostra efficienza dei risultati che otteniamo da come le cose vanno secondo le nostre aspettative. Quando invece tante volte sarebbe molto più importante immaginarci come la freccia che Zenone, il discepolo di Parmenide immagina immobile in ogni istante mentre va verso il suo bersaglio. Immobile in ogni istante cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro io è come se fosse fatto di tanti piccoli io che cambiano e che in ogni momento hanno le loro ragioni, le loro cause per trovarsi in un certo assetto. Quindi immaginati quanto è stata terapeutica dopo la fine di una storia. Provare a riguardare retrospettivamente alle cose che io chiamavo errori come delle cose che semplicemente avevo vissuto perché in quel momento ero in quello stato lì. Poi c'è stata la settimana scettica in cui mi sono allenata a non vederci chiaro. Senza mettermi gli occhiali vedevo tutto un po' sfumato e mi abituavo a diffidare della mia percezione e a pensare che qualche volta potevo metterla fra parentesi, che una cosa vera per me poteva non essere vera per gli altri. Calcola che poi è arrivato il covid con tutto questo inaspirsi, anche dei conflitti, dei contrasti, radicalizzare le posizioni. Insomma lo scetticismo mi ha aiutato anche come atteggiamento mentale nelle varie liti social in cui mi sono naturalmente trovata impelagata. Poi sono stata stoica e anche questo retrospettivamente mi è stato poi utile, cioè l'idea di accettare quello che non puoi cambiare, concentrare le tue energie su quello che dipende da te. È un'idea di epiteto, è un'idea antica. Oggi ci suona quasi come un consiglio di self-help, invece se uno ci riflette è un criterio molto duro, anche molto difficile da applicare, cioè distinguere le cose della nostra vita in base a queste due categorie. È qualcosa di molto radicale e che veramente cambia la visione che abbiamo nel mondo, ma cambia anche il nostro modo di starci dentro. Poi sono stata Epicurea la settimana preferita, magari ne riparliamo. E infine sono stata cinica. Settimana cinica è quella in cui, con Diogene di Sinope, che è questo filosofo straordinario, una specie di punk, filosofo punk, un Socrate punk, che sostanzialmente insegna alle persone, ammonisce le persone anche in maniera un po' brusca, i frammenti sulla sua vita sono molto divertenti ma anche molto istruttivi, a non conformarsi alle convenzioni. E qua mi sono resa conto di quanto era disperatamente convenzionale il mio modo di stare al mondo. È stato molto liberatorio applicare questo bisogno. Quindi ogni volta era come una prospettiva diversa che metteva in luce delle cose in cui ricadevo, anche delle soluzioni di comodo, anche delle abitudini che avevano perso un po' il significato e che erano diventate però parte di me, si erano calcificate in me, radicate, no? E ti ho sentito dire in più occasioni che la filosofia è una cura. Cosa intendi? Allora, questo è un altro tema a cui sono molto affezionata. Nel senso che secondo me, appunto, oggi viviamo in una società che tende molto alla semplificazione, pur essendo complessa come non mai, perché ci sono tantissimi temi che sono tuttora in cambiamento e che ancora non riusciamo a elaborare del tutto, no? Per esempio il rapporto con la tecnologia che negli ultimi vent'anni è cambiato tantissimo e noi ci siamo cresciuti dentro e secondo me ancora dobbiamo trovare dei modi per, come dire, rapportarci a questa cosa. Oppure il cambiamento che c'è stato nella politica. Politica che continua a conservare, per certi versi, delle forme novecentesche, ma rispetto al Novecento non esiste più il tema dell'ideologia in quel senso lì e quindi naturalmente è importante anche cercare di capirci qualcosa in questo senso. Però ci sono tantissimi… Ora, vabbè, naturalmente questa accelerazione di cambiamenti che è stata la pandemia. Diciamo, ci sono tantissime tematiche che ancora noi non vediamo dove ci porteranno e che aumentano la complessità. Eppure è un tempo che tende molto alla semplificazione. E questo secondo me è un problema anche rispetto a questa idea della filosofia come cura, in questo senso. Nel senso che noi oggi cerchiamo delle cure semplici, delle cure che siano efficaci, che ci diano una risposta pronta. Cerchiamo spesso delle risposte. In realtà la cura offerta dalla filosofia è una cura molto più sottile, molto più complessa e molto più legata al porre domande che al fornire risposte. Però questa della filosofia come cura è una tradizione molto antica che oggi si è un po' svilita in una cultura un po' da autoaiuto, in una cultura un po' del mettere il cerotto là dove c'è qualcosa che fa male, in una cultura anche un po' del, come posso dirti, del normalizzare tutto quello che ci rende particolari, tutto quello che ci rende vulnerabili. Però questa è un'idea appunto antica e un grande esponente di questa idea della filosofia, prima di altri esponenti moderni che sono filosofi che io amo moltissimo, come Michel de Montaigne, come Spinoza anche di cui parlavamo prima. Insomma ci sono anche filosofi nella modernità che riprendono questo tema. Ma nell'epoca antica è proprio una cosa fondamentale questa idea ed è fondamentale in particolare per Epicuro. Epicuro è il grande filosofo della cura, tanto che lui intanto scrive questa frase che insomma che a me piace molto citare che dice sostanzialmente che è vano e inutile il discorso di quel filosofo che non curi qualche male dell'animo umano. Secondo me è molto bella questo richiamo al fatto che appunto la filosofia ci può curare, nel senso che si prende cura di noi, nel senso che in qualche modo da un respiro alle nostre preoccupazioni che consente a queste preoccupazioni di diventare un modo di curarci, una terapia. poi Epicuro cosa fa? Lui inventa addirittura per i suoi discepoli un ragionamento in quattro parti che chiama il tetrafarmaco o quadrifarmaco. C'è un farmaco quadrivalente diciamo, una medicina. Farmakos in greco ha un doppio significato. Cioè da un lato è la medicina che ti cura, dall'altro può essere anche un veleno. Questo è interessante. Perché comunque c'è sempre qualcosa di graffiante anche nel pensiero filosofico. Ma la cosa interessante dell'idea epicurea del quadrifarmaco è questa. Cioè è il fatto che lui lo elabora, lui Epicuro lo elabora come se fosse una specie di antidoto alla schiavitù dalla paura. E questo secondo me è molto interessante ed è un monito che dovremmo così conservare in mente quando guardiamo alla filosofia. Cioè l'idea che nel momento in cui noi ci volgiamo alla filosofia ci stiamo in qualche modo autorizzando a trovare delle altre vie di uscita che non siano quella di renderci schiavi della paura. Stiamo trovando, stiamo immaginando dei modi di vedere la realtà per cui noi non dobbiamo essere passivi rispetto a quello che il mondo ci porta a vivere. Questo secondo me è piuttosto rivoluzionario. È rivoluzionario perché significa che il pensiero è qualcosa che ci libera, che ci rende più liberi, che ci rende più indipendenti, ci rende più attivi. E qua per citarti Spinoza che appunto anche lui ha molto questa idea della potenza dell'uomo. La potenza significa appunto il diventare padrone di quel reticolo di cause e di effetti che strutturano la tua vita. In questo senso appunto Spinoza dice noi diventiamo più perfetti nella gioia, nella gioia del conoscere. La gioia è per Spinoza un movimento di ascensione verso un grado più intenso di esistenza. E noi siamo più gioiosi quanto più ci liberiamo dalle paure. Ecco in questo senso secondo me la terapia filosofica è una terapia della gioia, non nel senso di euforia, di essere tutti esaltati e superficiali, ma nel senso di comprendere le cose con quel tipo di profondità che ci permette, capendo noi stessi, capendo gli altri, capendo il mondo, cercando di essere il più possibile attivi nel crearci questa comprensione, ci permette di essere liberi. Molto interessante. E proprio rispetto un po' alla gioia, in uno dei tuoi libri dici che hai studiato la filosofia invece come si studiano le lingue morte. E però poi in un momento un po' complicato della tua vita hai ripreso la tua educazione filosofica per ricercare la felicità. E quindi ti chiedo come può aiutarci la filosofia a essere più felici? Sì, allora questa è la grande domanda appunto con cui mi sono accostata a riprendere lo studio della filosofia antica in quel momento di crisi e di smarrimento che ho vissuto. Io effettivamente quando dico che ho studiato come una lingua morta la filosofia intendo questo. Io ho studiato appunto al liceo il latino e il greco, due lingue morte per il greco antico. Due lingue morte che mi sono state poi in seguito molto utili, ma che avevo studiato con l'idea che servissero per fare le versioni, le traduzioni, con il vocabolario quindi. Quindi sono lingue che è sicuramente importante studiare, io penso che sia importantissimo. Oggi c'è molto dibattito sul togliere il greco antico dalla scuola, secondo me sarebbe veramente un peccato perché è una lingua, a parte che è una lingua estremamente filosofica, ma poi veramente anche lì è filosofica nel senso che ti insegna a guardare poi alle parole, alle costruzioni di parole, alle composizioni perché spesso sono parole composite cercando le radici delle cose, che è appunto un atteggiamento molto filosofico e non è un caso che la filosofia sia nata proprio nella Grecia antica. Però appunto studiate queste lingue con lo spirito di una che deve poi fare il compito, classe, fare la versione, avere il vocabolario, non usarle per comunicare, quindi cercare di sbagliare il meno possibile, di essere sempre nel giusto nella traduzione, questo era il mio obiettivo. Questo è un obiettivo in realtà filosofico fino a un certo punto, nel senso che penso che sia molto più arricchente, che ampli molto di più la tua visione delle cose, il fatto di poter studiare la filosofia come una lingua viva, cioè come una lingua che tu studi per comunicare. Io ho studiato così il francese, l'inglese, magari sbaglio quando parlo l'inglese, magari faccio un errore di grammatica, un errore di pronuncia. Però la cosa che mi interessa è che le persone capiscano quello che sto dicendo, quello che voglio dire, che mi serva per comunicare. In questo senso la mia idea era quella di provare a usare la filosofia appunto a costo di essere più imprecisa a livello diciamo filologico, però per comunicare, per farla vivere attraverso di me. Il tema della felicità è stato centrale in questa ricerca perché in realtà appunto noi abbiamo molto l'idea, ed è un'altra delle ragioni della diffidenza nei confronti della filosofia, che il saggio, chi sa, chi studia, sia per forza un pesantone, sia per forza qualcuno di serio, serioso cupo. Sostanzialmente per noi è quasi inconcepibile pensare che una persona saggia sia anche felice. Per il greco antico il saggio è felice invece e la felicità non è un capriccio come la concepiamo noi. Noi la concepiamo come un momento di spensieratezza o di euforia, un momento che strappiamo alla prosa della vita, la colleghiamo molto alla giovinezza quando uno ancora non si è reso conto di che terribile trappola è il mondo. Questa cosa mi ha sempre un po' urtato perché pensi, ma allora perché devo andare avanti? Cioè chi me lo fa fare? Perché noi abbiamo un'etica diciamo deontologica, un'etica del dovere, laddove i greci hanno un'etica eudemonistica, cioè un'etica della felicità. Per i greci la felicità è una virtù e in questo senso il saggio è felice. Però che cos'è allora questa felicità? È chiaro che ci sono due nozioni di felicità che si stanno combattendo. da un lato la nostra felicità diciamo puntuativa, la nostra felicità fotogenica, la nostra felicità come un momento appunto che strappiamo a tutto questo grigiore dell'esistenza e dall'altro la felicità degli antichi che, come dire, si concilia con l'idea del saggio, si concilia con l'idea della saggezza, si concilia con l'idea del saperne di più. Il punto di congiunzione è in Socrate, un personaggio estremamente, vabbè, che io amo tantissimo perché anche un personaggio letterario, insomma, nei dialoghi di Platone viene fuori proprio lui come personaggio. e Socrate cosa fa? A un certo punto viene messo sotto processo dai suoi concittadini perché disturbava con il suo filosofare, con il suo modo maieutico di filosofare, cioè fermare la gente per strada e fargli delle domande fino a farli ragionare, a farli partorire la verità. Maieutico significa proprio che lavora come un'ostetrica che era il mestiere, fra l'altro, della mamma di Socrate. Insomma, praticamente, lui viene messo sotto processo e non avrebbe nessuna difficoltà a farsi assolvere perché gli basterebbe chiedere scusa, far venire i suoi figli in tribunale, farli piagnucolare un po', gli darebbero una multa e se la caverebbe. Invece decide di fare un discorso che è rimasto famosissimo perché l'ha immortalato Platone nell'Apologia di Socrate. Ovviamente non sappiamo se abbia detto esattamente quelle cose, probabilmente no. Però non importa, perché in realtà, rispetto a questi filosofi antichi, che appunto sono anche insegnanti di vita, è importante anche la testimonianza che rimane nei loro discepoli, al di là poi del realismo di questa testimonianza. Se è stata modellata in un certo modo significa che andava in direzione di un certo insegnamento. Ecco, lui sostanzialmente fa questo discorso in cui dice io, va bene tutto, mi avete messo sotto processo, ma io non ho niente da rimproverarmi. Perché? Perché non ho mai scontentato il mio daimon. Cioè, cos'è il daimon? È questa vocina, l'ho sentita per la prima volta nell'infanzia, la vocina che mi avverte, mi ha avvertito sempre nella mia vita, ogni volta che sono stato sul punto di fare una scelta in cui mi tradivo. Ora, cosa c'entra questo con la felicità? In greco, felicità si dice eudaimonia, cioè avere un buon daimon. Cosa significa? Che la loro nozione di felicità ha a che fare con il fatto che questa vocina interna, che ci avverte quando stiamo facendo qualcosa che non è da noi, quando ci stiamo tradendo, è soddisfatta. Non si sta lamentando, non sta protestando. Quindi è l'idea che essere fedeli a noi stessi, cioè costruirci un percorso di vita che somiglia a quello che siamo veramente, sia la felicità come virtù. Secondo questo è un'idea abbastanza rivoluzionaria per noi, intanto perché ci dà l'idea non consumistica della felicità come qualcosa da consumare, mostrare e superare, ma ci dà l'idea della felicità come un percorso, come un progetto, come qualcosa che presuppone il doverci conoscere. Perché questa voce del daimon ovviamente la sentiremo più chiara se ci conosciamo di più. E per il greco antico la conoscenza di sé è importantissima, è il motto scalpellato sul Tempio di Apollo ad Elphi, conosci te stesso. Quindi c'è questa idea del conoscerci che ovviamente non è un processo di individualismo, ma una cosa che ha a che fare anche con il conoscere gli altri, con il riconoscerci negli altri, un aspetto sociale anche molto importante. Ecco, questo processo è un processo di libertà e di liberazione. Che bello. Hai scritto un libro che si intitola Ragioni e sentimenti. Che consiglio ci può dare la filosofia sull'amore? Ah, tantissimi. Non sembra, eh. Sembrano due universi paralleli. E invece la filosofia ci insegna anche ad amare. Beh, qua andiamo proprio alle origini della parola filosofia e al fatto che il primo filosofo, sai chi è? È Eros. Ah. Questo lo si dice nel simposio di Platone, che è la storia di questo grande banchetto in cui, insomma, si ritrovano tutte le migliorimenti della migliore Atene, dell'Atene del quinto secolo, si trovano a fare un banchetto, una festa, dove fra l'altro si ubriacano anche tutti. Una festa, una festa. Sì, una vera festa, esatto. Non una festa fino a un convegno. No, proprio una festa. E praticamente cosa succede? Che cercano di dare a ognuno una definizione di cosa sia amore, di cosa sia Eros. E a un certo punto parla Socrate. E vabbè, il suo è il discorso definitivo, anche se ci sono tantissimi altri discorsi che in realtà arrivano molto in là, come la teoria, per esempio, degli androgini. Vabbè, però adesso non divaghiamo il mito degli androgini. Però invece Socrate cosa fa? Ricostruisce l'origine di Eros, dell'amore, come figlio di Poros e Penia. Poros sarebbe una sorta di personificazione, di divinità, dell'astuzia, nel senso dell'acquisto, capacità di acquistare le cose, acquistare non nel senso monetario, ma nel senso di procurarsene. Penia invece è la povertà, è la mancanza. E durante un banchetto, un banchetto celebrativo per la nascita di Venere, praticamente Poros si è ubriacato e Penia, che non era stata invitata alla festa, si è addormentata vicino a lui, addormentata come si usa a dire nei miti greci, nel senso che giacciono insieme, mettiamola così, e concepiscono questo figlio che è Eros, che quindi nasce da un lato da un padre che si sa conquistare le cose e da una madre a cui mancano le cose. E cosa dice Socrate? Eros è filosofos. Perché? Perché lui sa di non sapere. Il famoso sapere di non sapere, Socratico, è legato all'erotismo della conoscenza e quindi a questa spinta veramente erotica verso il voler conoscere, verso il voler inseguire la saggezza. E tutto quello che manca in realtà ci genera un desiderio. Quindi l'eros, il desiderio che sta nell'amore, è qualcosa che nasce dalla mancanza e che si tende nel vuoto della mancanza. Quindi già questo mi sembra abbastanza, insomma, un insegnamento abbastanza epocale. E quindi intanto la filosofia ci insegna a desiderare, nel senso che ci insegna che noi desideriamo laddove abbiamo una mancanza, ci insegna a mantenere questo spazio aperto per il desiderio. E poi naturalmente tutti i filosofi si sono confrontati con l'amore, cercando di costruirne delle teorie. Ora, in realtà a me piace moltissimo una cosa che ci insegna non un filosofo antico, ma appunto, diciamo, una sorta di moderno epicureo, cioè Spinoza, il mio filosofo del cuore, sull'amore. Cioè lui dice che l'amore, praticamente nella sua Etica, lui scrive questo libro, l'Etica, in cui crea una teoria di tutto, cioè dalla natura che è una personificazione di Dio, nel senso che lui è un panteista, cioè che lui vede in qualche modo un'identificazione profonda fra l'immanenza e la trascendenza. Adesso non vorrei dare sui paroloni, però sostanzialmente per lui la natura e la divinità sono una sola cosa, sono la stessa cosa, perché sono una specie di connessione perfetta di cause e di effetti che danno luogo a tutto quello che esiste, cioè la sostanza sostanzialmente. E all'interno di questa sostanza, di cui noi siamo i modi, cioè noi siamo delle espressioni di questa sostanza, lui costruisce anche una teoria dell'uomo. Una teoria dell'uomo che è una teoria molto interessante anche a livello psicologico, perché lui esamina tutti gli affetti, cioè tutte le emozioni che noi proviamo e le passioni, quelle rispetto alle quali noi siamo passivi. Però quello che dice Spinoza è che appunto dà delle definizioni di tutte le emozioni, quelli che noi chiamiamo sentimenti, no? Ed l'amore dice che è una forma di gioia, cioè un passaggio da minore a maggiore perfezione, quella cosa che dicevamo prima, no? Cioè un passaggio da un livello di esistenza meno intenso a uno più intenso. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu quando ami stai vivendo un passaggio a un maggiore livello di realtà, che il fatto di amare ti rende più radicato nella realtà, più libero in qualche modo. E però questa forma di gioia è una forma di gioia che si realizza solo in concomitanza con la presenza di una causa esterna. Quindi vuol dire che tu non puoi amare se non hai qualcuno da amare. Che sia un'idea o che sia una presenza reale, ci deve essere un altro termine e ci deve essere questa presenza come qualcosa di esterno a te. Secondo me qua abbiamo veramente una tensione bellissima che ci dice cos'è l'amore, anche appunto riprendendo quel discorso del desiderio come qualcosa che si sviluppa in un vuoto, no? Il fatto che comunque noi, calcola che fra l'altro per Spinoza il desiderio è l'essenza stessa dell'uomo, neanche molto importante. Però appunto l'amore è qualcosa che ci fa tendere, che ci fa tendere a una maggiore perfezione nel momento in cui noi cogliamo questa causa esterna, cioè questa persona che sta di fuori di noi e che ci genera questo tipo di tensione, questo tipo di moto verso il suo essere esterno a noi. Questo secondo me ci dice molto perché ci dice il fatto che noi, anche se naturalmente tutti quando amiamo tendiamo a voler inglobare l'altra persona, a non volerla lasciare andare, a voler diventare una sola cosa come nel mito degli androgini, in realtà non possiamo farlo perché è quell'essere esterna dell'altra persona che permette al nostro desiderio, che permette alla nostra tensione di farci crescere nella gioia in questo senso qua, in questo senso di aumento di perfezione. Questo secondo me è una cosa che è molto difficile da accettare rispetto all'amore ed è causa di grandi sofferenze amorose, no? Perché tutti soffriamo di questa cosa, cioè del fatto che non ci possiamo fondere. Però questa è una spiegazione filosofica di questo fenomeno che secondo me veramente rende conto di tantissime altre cose che ci succedono nell'amore. E un'altra frase a cui sono molto affezionata, un'altra immagine dell'amore a cui sono molto affezionata, in realtà viene da un filosofo che non diresti mai che abbia scritto una cosa interessante sull'amore e cioè Teodoro Adorno. Lui è critico dell'industria culturale, grande, un filosofo, come dire, molto engagé, molto polemico anche, estremamente interessante, però appunto non lo associeresti immediatamente al tema dell'amore. Però lui ha scritto questa cosa sull'amore che è una cosa che io penso sempre nel momento in cui appunto mi trovo a riflettere su cosa sia in profondità l'amore. E la frase è questa, dice sostanzialmente solo dove sei amato ti puoi mostrare debole senza aspettarti in risposta alla forza. Questo secondo me fa un po' da contraltare a quell'idea del rimanere esterni. È vero che è necessaria quella distanza, no? È vero che è necessaria e fra l'altro c'è una bellissima frase anche di Simone Weil che sviluppa ulteriormente questo punto spinoziano dicendo che amare significa anche consentire a quella distanza e volerla e adorarla. Questo secondo me è anche molto interessante. Però al di là di quella distanza, dentro l'amore tu sei protetto dalla tua stessa debolezza. Ed è una cosa secondo me così molto bella e che penso che, come dire, possa anche funzionare come criterio per capire quando una relazione non sta andando nella direzione. Sì, perché comunque nel momento in cui tu, in una relazione, tu generico ovviamente, senti che non puoi mostrarti debole perché in risposta ricevi la violenza, ricevi la forza. Allora vuol dire che qualcosa non sta andando per il verso giusto, vuol dire che quella causa esterna forse ti sta ingannando e non ti sta facendo passare a una maggiore perfezione. Certo. Stiamo proprio parlando di emozioni qui e tu hai scritto un libro che è Vita segreta delle emozioni dove parli di come i filosofi si trovino ad affrontare molte emozioni. Quindi quello che ti chiedo adesso è, siccome ce ne sono due che mi sembrano particolarmente rilevanti, come potrebbero aiutarci i filosofi ad affrontare la paura o l'ansia? Allora sì, ho scritto questo libro perché, fra l'altro proprio l'ultimo che ho scritto e l'ho scritto in questa fase di pandemia perché in realtà ho ripreso dei lavori che avevo fatto per la mia tesi di dottorato che era tutta dedicata allo studio delle passioni nel Seicento, per cui soprattutto Spinoza e Pascal come reagiscono al modello cartesiano delle passioni dell'animo. E la reazione è molto interessante, soprattutto quella di Spinoza perché lui cosa fa? Lui dice no, ok, non dobbiamo per forza pensare che quello che sentiamo deve essere al cento per cento forzatamente una passione, cioè qualcosa che ci rende passivi solo perché ci arriva dal corpo. E si inventa questa idea degli affetti, cioè dei modi attraverso i quali noi possiamo conoscere emotivamente il mondo sostanzialmente. Lui dice in realtà anche le cose che noi proviamo che ci si imprimono nel nostro corpo, in realtà nel momento in cui noi riusciamo poi a costruirne un'idea adeguata, aumentano la nostra conoscenza del mondo. Secondo me è una bella alternativa all'idea invece stoica soprattutto del doversi chiudere, del dover essere autosufficienti rispetto al mondo e quindi del saggio che non deve provare niente. In realtà c'è una conoscenza affettiva, una conoscenza emotiva, che le neuroscienze stanno provando fra l'altro proprio in questo tempo, quanto sono utili, quanto sono importanti anche questo genere di conoscenze. Ed è una ricchezza anche quella che ci viene appunto da quello che noi sentiamo a livello proprio epidermico del mondo. E in questo senso appunto anche l'ansia, anche la paura, cioè diciamo delle emozioni che siamo portati a considerare negative, possono darci un aiuto, nel senso a conoscere il mondo e a conoscere noi stessi, nel momento in cui noi cerchiamo non di soffocarle per via di ragionamenti, dicendoci no, non devo provarla, eccetera, eccetera, in maniera puramente razionale, ma cercando di intavolare un discorso emotivo, cioè di parlare il loro stesso linguaggio nel momento in cui le sentiamo. Ora, ovviamente la paura sarebbe un'emozione triste per Spinoza, ma una passione triste nel momento in cui noi non riusciamo a vederne le cause e la subiamo semplicemente. Nel momento in cui noi proviamo a guardarla, diciamo vis-à-vis, quando, nel momento in cui noi proviamo a decifrarla, già ci può insegnare qualcosa. E in questo senso torniamo ad Aristotele. Aristotele dice una cosa secondo me molto bella a proposito del coraggio. Dice che il coraggio non è il non avere paura, non è il non aver mai avuto paura, ma è il riconoscere la paura e affrontarla. E questo secondo me è una delle cose che, come dire, noi ci possiamo portare come bagaglio filosofico davanti alla paura. La paura è una reazione ancestrale, è una reazione che naturalmente viene da delle necessità di conservazione della specie. Cioè ci sono delle cose che ci fanno paura perché noi impariamo, fin da piccoli, istintivamente, che ci sono delle cose che per noi sono pericolose. Però allo stesso tempo anche renderci conto delle nostre paure che vivono dentro di noi, che si strutturano dentro di noi, prendendo forma attraverso le parole del modo in cui ce le raccontiamo, della nostra immaginazione eccetera eccetera, è anche un modo per prenderci confidenza con il fatto che, essendo umani per forza di cose avremo sempre paura di qualcosa e provare a decifrarle, capire perché qualche cosa ci fa paura e come possiamo fare per affrontare quella paura e per evitare che ci paralizzi. Qua torniamo ai Picuro, evitare di esserne schiavi, evitare di esserne ricattati e evitare di rimanere paralizzati da questa paura. L'ansia in questo è una forma specifica di paura. Secondo me è molto interessante nel senso che è un tema, un'emozione estremamente contemporanea, anche se è sempre esistita. Nel mio libro a un certo punto cito un discorso, insomma la prima Resis, il primo monologo in scena dell'Elettra di Sofocle, quindi stiamo andando molto indietro. Cosa fa Elettra? Compare in scena e spiega per filo e per segno i sintomi dell'ansia. Insogna, tachicardia, sentirsi divisa, si è incredibile con una precisione veramente clinica. E cosa le succede? Che il coro le risponde e le risponde quello che tutti rispondono agli ansiosi. Cioè, ma smettila, ma piantala, ma non farla tanto lunga, calmati, sei solo tu che vivi, sei solo tu che hai dei problemi, che è la cosa che si sentono dire sempre tutti gli ansiosi. Cos'ha l'ansia? L'ansia praticamente somiglia alla paura, anzi ha la stessa sintomatologia della paura, solo che mentre la paura ha un oggetto identificato, identificabile, l'ansia questo oggetto non ce l'ha. quindi noi quando siamo in ansia, io sono spesso in ansia, la conosco molto bene, quando noi siamo in ansia abbiamo la stessa reazione fisica che abbiamo quando ci spaventiamo, solo che non riusciamo a identificare la fonte di questa reazione. Ed è questo che rende così insidiosa l'ansia. Ed è per questo che fra l'altro nella storia, cioè fra l'altro molto affascinante la storia dell'ansia, perché si mescola con la storia dei rimedi all'ansia, che sono dei più fantasiosi dal mangiare la noce perché è la stessa forma del cervello all'andare in altalena, usare opioidi, oppiace, varie cose. Ci sono tantissime soluzioni che hanno a che fare con l'idea di provare ad addormentarla, metterla a tacere. Perché? Perché naturalmente l'ansia nasce da, e si traduce in, una iperattività immaginativa. Perché l'ansioso, non riuscendo a individuare la fonte, è come se tu sentissi un rumore, un fruscio inquietante, che arriva e non riesce ad identificare la fonte. Allora lo vedi venire da tutte le parti, lo senti venire da tutte le parti, lo immagini che arrivi da ovunque. E questa iperattività si lega moltissimo all'ansia, cioè al fatto che comunque tu nel momento in cui non riesci ad identificare la causa di quella paura, la trovi dappertutto, la vedi dappertutto, la spalmi dappertutto su tutta la tua esperienza. Ed è per questo che l'ansioso si sente costantemente sotto minaccia. Perché la minaccia viene da tutte le parti e soprattutto viene da dentro di lei o di lui. Ecco, rispetto a questo secondo me l'atteggiamento giusto è sicuramente quello del provare ad affrontarla. Appunto, come dice Aristotele, rispetto al coraggio bisogna cercare di essere coraggiosi anche rispetto all'ansia. Sapere che il fatto di provarla è la cosa che ci mette nelle condizioni di poterla affrontare. Però allo stesso tempo è molto difficile, proprio perché è difficile individuarne la causa. Quindi la mia idea è sempre che l'ansia sia una domanda, che dobbiamo cercare di capire che cosa sta mascherando. Perché in realtà quella causa, perché in realtà l'ansia è paura. E lo è veramente. E quindi in realtà probabilmente, anche se noi non la vediamo immediatamente, forse è solo un impedimento del nostro sguardo in quel momento, che ci manda in confusione e che ci fa immaginare che questa paura sgorghi da tutte le parti. Ma provare a decostruirla piano piano, cercando di farlo appunto non nel modo di minimizzare, come fa appunto il coro con la povera Elettra, ma cercando di ascoltare quali possono essere le cause possibili e piano piano individuare quella sorgente principale è sicuramente il modo migliore per combattere l'ansia. Detto questo, è molto difficile combattere, però ci possiamo consolare sempre con le parole di Kierkegaard che dice che sostanzialmente chi vive senza angoscia è un privo di spirito. Quindi diciamo che l'ansia è il segno che noi sappiamo che stiamo vivendo. È anche una condizione che è molto radicata con la nostra coscienza di esistere, che naturalmente è qualcosa di molto bello, di vertiginoso, ma anche di molto impegnativo da sopportare. Perché adesso stiamo vivendo molti momenti di incertezza. Come possiamo affrontarli? Eh, infatti, allora, qua sicuramente andando in ansia. No, questo è abbastanza inevitabile. Però sì, allora noi effettivamente adesso stiamo affrontando un momento di grande crisi, nel senso che sicuramente questa cosa che è successa del Covid, che è una cosa che tendiamo magari a volte a voler rimuovere dai nostri discorsi, ma non possiamo perché è veramente un elefante nella stanza. Perché è veramente stata una crisi che ha accelerato molti cambiamenti, che ci ha costretto a confrontarci con alcune cose che abbiamo cercato da molto tempo di non vedere. Qual è la nostra vulnerabilità di essere umani, il fatto che tutti i nostri destini sono interconnessi. Questa in realtà è una cosa che si è rivelata tremenda nella pandemia, ma che in realtà è anche una cosa a suo modo bella. Cioè l'idea che appunto noi siamo talmente vicini agli altri, siamo talmente la stessa cosa, è talmente impossibile, no? Come nella famosa fase di Terenzio, cioè che siamo umani e niente di umano possiamo considerare alieno a noi. Il Covid ci ha dimostrato questo in un modo diciamo negativo, in un modo traumatico, però c'è anche un risvolto secondo me positivo. Cioè l'idea che appunto essere insieme nel combattere questa cosa, essere insieme nell'impegnarsi a diminuire i contagi, essere insieme anche in questa coscienza della nostra vulnerabilità è una possibilità che secondo me non dovremmo sprecare, non dovremmo rimuovere, non dovremmo cercare di buttare via. Perché naturalmente quello che è successo ha delle ragioni, delle ragioni precise che hanno a che fare anche con la gestione del pianeta, con questioni ecologiche che sono molto profonde, anche lì non sono capricci, sono cose che hanno molto a che fare con il nostro stato sulla Terra. Quindi diciamo ci sono tante cose che ci possono servire di lezione. Allo stesso tempo appunto c'è questa idea che comunque il nostro modo di pensare al futuro è cambiato, che ci siamo dovuti riassestare, è cambiato il nostro modo di percepire la nostra posizione nel mondo, nel senso che anche rispetto a tutto il discorso della morte per esempio, cioè è stato un momento molto traumatico perché ci ha costretti a vedere delle cose che veramente per decenni e durante molti decenni ci eravamo impegnati a rimuovere. Molti filosofi contemporanei sostengono che la nostra società è una società che cerca di allontanare la morte, di farne il nuovo tabù. Il nuovo tabù non è più il sesso ma è la morte e penso che sia proprio vero questo e che il Covid in realtà ci abbia portati a ribaltare questa cosa. Quindi noi ci troviamo sostanzialmente a gambe per aria, ci troviamo un po' caduti nel pozzo, un po' appunto senza punti di riferimento. E naturalmente è una cosa che mi è tornata in mente molte volte in questo periodo, in realtà anche queste scuole filosofiche, la maggior parte di queste scuole filosofiche che ho esplorato, quelle ellenistiche, nascono anche loro in un tempo di crisi perché l'ellenismo è un momento di crisi, è un momento in cui l'uomo greco perde la sua centralità nella polis, è un momento in cui il cittadino diventa un suddito, i confini del mondo si allargano, tante cose cambiano. Quindi quello è il momento in cui fioriscono queste scuole. Non è un caso secondo me che oggi, accanto alla diffidenza che c'è per la filosofia, ci sia tanta domanda, tanta curiosità per la filosofia. E quindi secondo me appunto provare a, come dire, fronteggiare questa crisi ponendosi delle domande e cercando di ripensare in maniera spesso anche magari radicale, anche coraggiosa, ma anche e soprattutto libera il nostro posto nel mondo, secondo me può essere importante. E un'altra cosa mi viene in mente, che è legata all'idea del tempo che hanno i greci. Loro hanno questa idea del tempo? Sì, certo, hanno un'idea del tempo lineare anche loro, anche se sono molto più vicini a un'idea di circolarità del tempo, perché naturalmente sono una società più antica della nostra e quindi naturalmente sono più vicini a questa primissima idea che nasce dall'osservazione del ripetersi delle stagioni, dei cicli della vita. Certo, però hanno anche un'idea che secondo me è molto interessante che dovremmo in qualche modo provare a recuperare, che è l'idea del kairos. Il kairos è un'idea qualitativa, non quantitativa del tempo, che sostanzialmente ci fa vedere il momento come il momento opportuno, il momento giusto, il momento in cui agire. Il kairos è questa nozione che si applica in diverse forme nei vari settori del sapere. Per esempio c'è il kairos per il retore, quello che arringa le folle, c'è un momento in cui lui sa che ha in pugno l'uditorio ed è allora il momento in cui deve sparare la sua frase più grossa, deve andare al punto, deve andare al cuore del suo discorso. Ma c'è anche il kairos per il medico, che è il momento della crisi del paziente, cioè il momento in cui agire. Quindi forse dovremmo provare a ripensare a questo nostro presente che si è dilatato perché si è un po' mangiato il futuro e le possibilità di futuro dipendono anche da come noi gestiamo questo presente. provare a ripensarlo in termini di kairos, cioè di un momento in cui è importante agire perché un domani siano possibili delle cose che abbiamo dato per scontate e che in realtà dobbiamo tornare a rendere possibili. Oltre ai sentimenti e alle emozioni, beh, come dici, stiamo vivendo in una società fortemente individualista. Qual è il valore dell'amicizia? Il valore dell'amicizia, anche questo nella pandemia, è stata una grande scuola da questo punto di vista, nel senso che ha riconfigurato tutte le nostre relazioni. Ora, il tema dell'amicizia è un tema in realtà autenticamente filosofico, nel senso che la filosofia antica se ne occupa tantissimo e poi si perde un po', perché nelle etiche deontologiche appunto si perde un po'. Solo Kant dice qualcosa di interessante rispetto all'amicizia, anche se la sua idea è molto disincantata. Lui sostiene che l'amicizia perfetta, l'amicizia ideale è quella che Aristotele indica. Aristotele indica sostanzialmente tre generi di amicizia. Quella che è legata all'utile, che dice soprattutto quella dei vecchi. I vecchi che sono amici perché pensano che l'altro possa, come dire, magari aiutarli in qualche modo. Quindi può essere anche sincera, può essere anche paritaria, però ognuno spera dall'altro un'utilità. Poi c'è l'amicizia legata al piacere, che dice soprattutto quella dei giovani. Cioè sei amico di qualcuno perché ti fa fare delle cose che ti piace fare. Anche qua può essere anche reciproca. Però comunque c'è un fine che è esterno al bene dell'amico. Poi c'è una terza forma di amicizia. Che è l'amicizia diciamo più pura, più disinteressata. Quella che è un'amicizia che trova nel bene dell'amico il suo stesso fine. Ed è un'amicizia molto importante ai fini proprio di quella costruzione della felicità come la demonia. Quindi quel perfezionamento della felicità come una virtù ha molto a che fare con coltivare questa amicizia disinteressata che per Aristotele è quella tipica dell'uomo di mezza età. Quindi quando non hai né troppa fretta del piacere come quando sei giovane, quando non hai troppa paura della vita e delle limitazioni come quando sei vecchio. Ora ovviamente questa è la sua teoria però è molto divertente anche che sia così. E c'è anche molto di vero nel senso che è vero che tutti abbiamo delle amicizie che magari coltiviamo un po' più tendendo all'uno di questi fini. E poi però ci sono quegli amici che hanno come dire in se stessi il premio della nostra amicizia. Però Kant sostiene sostanzialmente che è impossibile che si realizzi questa amicizia perfetta, questa amicizia senza fini esterni ma che bisogna tenerla come un ideale regolatore. Ora io su questo non sono d'accordissimo appunto perché penso che in realtà possa esistere, dentro un'amicizia che è più improntata a una di queste tendenze qualcosa di un'altra tendenza. E' molto vero per esempio che noi abbiamo moltissimo questa nuova forma di amicizia che sicuramente Aristotele non poteva conoscere che è l'amicizia social. Che è una forma di amicizia secondo me che andrebbe proprio studiata, è interessante per molti versi ma anche qualcosa che sta cambiando e che ha molto a che fare con il tema dell'ammirazione, dell'emulazione e dell'approvazione cercata. E con il fatto di un conoscersi a un altro livello però. Quindi può anche essere diciamo qualcosa di molto promettente per il futuro però dobbiamo cercare un po' di capire dove si colloca esattamente e che cosa ci dà e cosa ci porta. Però appunto ancora una volta io tornerei a Epicuro e alla sua nozione che è diciamo ancora più vasta di quella di Aristotele. Lui ha questa idea della filia che è sostanzialmente qualcosa di molto… che significa sostanzialmente amicizia. Anche se tutta la storia della parola philos e filia in greco è molto interessante perché è una parola che nasce tardi. Però philos in un primo tempo nei poeti più arcaici significa anche mio. Significa amico ma significa anche mio, è anche una sorta di aggettivo possessivo. Quindi c'è questa idea che l'amico è qualcosa di tuo, che l'amico è qualcosa che ti appartiene e ha qualcosa che ti appartiene. Questa idea secondo me è molto bella ed è molto bella se la vediamo appunto nella declinazione che ne dà Epicuro della filia. La filia è sostanzialmente un atteggiamento, quindi è un'attitudine. Oltre all'amicizia in sé per sé, quindi al legame tra gli amici, è anche un modo, diciamo una forma di generosità, uno sguardo aperto e, come dire, che prescinde da tutte le forme di contabilità, di contare che favori tu fai, che favori ricevi eccetera eccetera, rispetto agli altri. E' la cosa più importante che noi abbiamo nella vita, nel mondo. E' l'amicizia che ogni mattina sveglia tutti gli uomini sulla terra. Secondo me è un'idea molto bella questa, l'idea di una comunità. Molto potente. Molto potente, anche molto poetica, perché è molto evocativa il modo in cui la esprime. Però secondo me, in un tempo di crisi, in un tempo di isolamento, qual era il suo tempo e qual è il nostro? Pensare all'amicizia come qualcosa, come una sorta di legame che in qualche modo corre attraverso di noi, come se fosse una corrente elettrica, che corre attraverso tutti noi che siamo vivi e che, come dire, quindi condividiamo questo peso, ma anche questo privilegio della condizione umana. Secondo me è un'idea molto bella e appunto molto improntata a una forma di generosità, proprio di filantropia che secondo me dovremmo un po' riscoprire, anche se mi sembra che il mondo non stia andando esattamente in questa direzione. Noi ci crediamo lo stesso. Ilaria, per concludere, se dovessi scegliere una scuola filosofica, quale sceglieresti e perché? Allora, vabbè, ovviamente sceglierei la scuola epicurea, l'avrete capito. Temperata da una punta di cinismo. Ora ti spiego. Allora, sceglierei la scuola epicurea perché penso che faccia appello alle parti migliori di noi, alle cose, come dire, migliori non in un senso rassicurante, ma nel senso che ci sfidano a coltivare il nostro essere umani, quindi il nostro privilegio di avere coscienza, di vivere, il nostro privilegio di, in qualche modo, di poter essere liberi. E ci sprona farlo con una profondità, con una franchezza che io trovo francamente meravigliosa. Ci sprona farlo anche rendendoci conto del fatto che noi viviamo dei nostri corpi, nei nostri corpi. Anche questo è molto protospinoziano. L'idea, appunto, noi non è che da una parte siamo solamente forza di volontà, che è un po' la tendenza dello stoicismo, in un certo senso, ma che noi siamo i nostri corpi, quindi siamo anche i nostri desideri, che noi possiamo esaminare questi desideri in modo da modellare la nostra vita, in questo senso eudemonistico, creandoci le condizioni per questa felicità. Soprattutto c'è questa idea di comunità, questa idea di una gioia, in senso spinoziano, plurale, di essere padroni del nostro destino, di essere padroni delle nostre azioni, di quello che noi sentiamo, di quello che ci riguarda, prendo un modo anche che è aperto all'altro e non è isolamento, non è autarchia, nel senso appunto stoico. Quindi secondo me essere piccurei oggi potrebbe essere una bella idea, perché appunto poi ci porta a pensare ai nostri desideri come qualcosa che noi possiamo criticamente esaminare, di cui possiamo essere consapevoli, ci spinge a non essere schiavi delle cose che ci fanno paura, a non lasciarci paralizzare da quello che temiamo, compreso il timore di non essere mai felici, questo secondo me è molto sottile. E poi appunto ci sono proprio delle tecniche piccurei che io apprezzo tantissimo, per esempio il vero piccurei dovrebbe la mattina quando si sveglia fare per prima cosa l'elenco di tutti i mali di cui non soffre, quindi tu più stai bene più inizierai tardi la tua giornata perché stai lì a elencarli tutti. Che appunto sembra una cosa molto semplice, però in realtà se poi lo fai nel momento in cui veramente sei angosciato, sopraffatto, è utilissimo. Ed è un modo bellissimo di guardare alla propria vita. Quindi direi sicuramente piccureismo, ci aggiungerei una punta di cinismo, non nel senso di cinismo, sai che cinico è proprio diventato un aggettivo, però in realtà il cinismo nasce come imitazione del cane letteralmente, no? A parte che io odoro i cani, vabbè, posso aprire un'altra apparenza. Però effettivamente l'idea di osservare un'altra forma di vita, quale può essere quella canina, per trovare il punto in cui collocarsi nel mondo senza essere passivi rispetto alle imposizioni della convenzione, secondo me è un'altra cosa molto importante. Cioè appunto mettere in questione quello che noi facciamo chiedendoci ma questo io lo faccio perché mi hanno insegnato che lo devo fare, perché tutti lo fanno, lo faccio per conformismo. In un desiderio, in un comportamento, in una postura, in un'attitudine. Questo secondo me è una domanda molto importante da farsi. Io tante volte mi accorgo che avrei fatto molto bene a continuare a farmela, invece qualche volta per stanchezza, per qualche motivo non me la faccio, smetto di farmela e così mi perdo un po'. Ma in realtà questa è una cosa che è molto importante chiedersi. Così come è importante osservare i cani? Allora di oggi nel cinico si paragona più riprese a un cane nel non aver bisogno di niente, nel seguire soltanto degli impulsi molto semplici. Ora è ovvio che non possiamo metterci tutti a vivere come cani, perché sarebbe anche molto complicato, anche perché collasterebbe probabilmente il nostro mondo. Però è anche vero, secondo me, che mantenere appunto uno sguardo vigile rispetto ad altre forme di vita, non sentirci così tanto dei privilegiati che devono stare al centro di tutto. Sì, è vero, noi abbiamo delle specificità della nostra condizione umana di cui ci facciamo carico, però è anche vero che non siamo migliori di nessun altro animale e questo secondo me è sempre bene ricordarcelo. Beh, Ilaria, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. È stato davvero molto interessante e arricchente. Grazie. Guarda, grazie a te. Per me è stato bellissimo e speriamo di farlo ancora. È bellissimo parlare con te. Grazie. Un piacere. Grazie. 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 Grazie.